due ragazzi sedevano sul muro della banchina e giocavano a dadi un uomo leggeva un giornale sui gradini di un monumento all'ombra dell'eroe che brandisce la sciabola una giovane donna alla fontana riempiva d'acqua il suo mastello un venditore di frutta stava vicino alla sua merce e guardava sul lago nella profondità di una taverna attraverso gli spazi vuoti della porta e della finestra si vedevano due uomini che bevevano vino davanti all'ingresso l'oste sedeva ad un tavolo e si era assopito un battello scivolava silenziosamente come se fosse trainato sull'acqua nel piccolo porto un uomo con la casacca blu scese a terra e passò le funi negli anelli altri due uomini in casacca scura con bottoni d'argento trasportavano dietro al capitano del battello una barella sulla quale chiaramente sotto un grande panno di seta a fiori guarnito di frange giaceva un uomo sulla banchina nessuno si interessò dai nuovi arrivati neppure quando essi misero a terra la barella per aspettare il capitano del battello che armeggiava ancora con le funi nessuno si avvicinò nessuno fece una domanda nessuno li osservò attentamente il capitano del battello fu trattenuto ancora un poco da una donna con i capelli sciolti un bambino al petto che in quel momento era apparsa sul ponte di coperta poi egli arrivò indicò una casa giallognola di due piani che si alzava dritta a sinistra vicino all'acqua i portatori sollevarono il loro carico e lo trasportarono attraverso il portone basso ma costituito da sottili colonne un ragazzino aprì una finestra poteva appena vedere come il gruppo scompariva nella casa e in fretta richiuse la finestra anche il portone ben costruito il legno di quercia nero ora fu chiuso uno stormo di piccioni che fino ad allora aveva volato intorno al campanile si posò ora davanti alla casa i piccioni si radunarono dinnanzi al portone come se nella casa si custodisse il loro cibo uno volò fino al primo piano e picchiò col becco sul vetro della finestra erano bestiole di color chiaro sane, vivaci con un grande lancio la donna gettò loro dal battello dei chicchi di grano essi ribeccarono e volarono verso la donna da una delle viuzze strette fortemente ripide che conducono al porto giunse un uomo col cilindro fasciato a lutto si guardava intorno attentamente interessandosi di tutto la vista della sporcizia in un angolo gli fece storcere il viso sui gradini del monumento c'erano delle bucce passandovi davanti le buttò giù col bastone poi bussò alla porta della casa nello stesso tempo si tolse il cilindro con la mano destra inguantata di nero subito gli fu aperto una cinquantina di fanciugli gli fecero ala nel lungo corridoio e si inchinarono il capitano del battello scese le scale salutò il signore guidò di sopra al primo piano fece con lui il giro del cortile circondato da logge ben costruite graziose e mentre i fanciulli seguivano a rispettosa distanza i due entrarono in una grande stanza fresca nella parte di dietro della casa di fronte alla quale non si vedevano più case ma solo la parete spoglia grigionera di una roccia i portatori erano impegnati a sistemare ad accendere alcune lunghe candele a capo della barella ma non si fece luce solo furono animate le ombre prima quiete che ora tremavano sulle pareti il panno era stato sollevato dalla barella vi caceva un uomo i capelli e la barba cresciuti disordinatamente la pelle abbronzata aveva all'incirca l'aspetto di un cacciatore giaceva immobile apparentemente senza respiro con gli occhi chiusi tuttavia solo ciò che lo circondava indicava che fosse morto il signore si avvicinò alla barella poggiò una mano sulla fronte dell'uomo che giaceva si incinocchiò e cominciò a pregare il capitano del battello fece cenno ai portatori di lasciare la stanza questi uscirono allontanarono i fanciulli che si erano radunati fuori e chiusero la porta ma sembrò che al signore non bastasse neppure quel silenzio egli infatti guardò il capitano del battello questi capì e passò nella stanza accanto da una porta laterale subito l'uomo sulla barella aprì gli occhi volse lo sguardo al signore sorridendo dolorosamente e disse chi sei? il signore si alzò senza grande stupore dalla sua posizione in ginocchio e rispose il sindaco di riva l'uomo sulla barella fece un cenno con il capo indicò una sedia tendendo a fatica il braccio e dopo che il sindaco ebbe accolto il suo invito disse lo sapevo già signor sindaco ma di primo acchito ho sempre dimenticato tutto tutto mi si confonde ed è meglio che chieda anche se so già tutto anche lei forse sa che io sono il cacciatore Gracchus certo disse il sindaco lei mi è stato annunciato questa notte dormivamo da tempo verso mezzanotte mia moglie mi ha chiamato salvatore è il mio nome guarda il piccione alla finestra era proprio un piccione ma grosso come un gallo volò al mio orecchio e disse domani verrà il cacciatore Gracchus morto accoglilo a nome della città il cacciatore assentì e si passò la punta della lingua sulle labbra sì i piccioni mi precedono in volo ma lei pensa signor sindaco che io debba rimanere a riva non posso ancora dirlo rispose il sindaco lei è morto come vede sì disse il cacciatore molti anni fa non devono essere moltissimi anni nella foresta nera che è in Germania precipitai da una rupe mentre inseguivo un camoscio da allora sono morto però lei vive ancora disse il sindaco e non certo qual modo disse il cacciatore e non certo qual modo vivo ancora il mio battello funebre ha sbagliato rotta un falso movimento del timone un attimo di disattenzione del capitano del battello una deviazione attraverso la mia meravigliosa patria non so che cosa è stato so solo che sono rimasto sulla terra e che il mio battello da allora naviga in acque terrene così io che volevo vivere solo sulle montagne della terra dopo la mia morte viaggio attraverso tutte le sue regioni e non ha nulla a che fare con l'aldilà chiese il sindaco corrugando la fronte io sono sempre sulla grande scala che vi conduce dispose il cacciatore mi aggiro su questa larga scalinata ora su ora giù ora a destra ora a sinistra sempre in movimento il cacciatore è diventato una farfalla non ride io non rido protestò il sindaco molto comprensivo disse il cacciatore sono sempre in movimento ma quando prendo il massimo slancio e già si illumina la porta lassù mi sveglio nel mio vecchio battello tristemente finito in chissà quali acque terrene l'errore fondamentale della mia morte di allora schignazza intorno alla mia cabina Giulia la moglie del capitano del battello bussa e mi porta alla barella la bevanda del mattino del paese lungo le cui coste stiamo navigando io giaccio su un tavolaccio indosso non è piacevole guardarmi un sudario sudicio i capelli e la barba grigie neri inestricabilmente aggrovigliati le gambe coperte con un grande foulard femminile di seta a fiori molto frangiato a capo c'è una candela da chiesa che mi fa luce sulla parete che sta di fronte a me c'è un quadretto un boscimano evidentemente che mi punta con un giavellotto e si nasconde il più possibile dietro uno scudo magnificamente dipinto sulle navi capita di vedere stupide illustrazioni ma questa è una delle più stupide per il resto la mia gabbia di legno è del tutto vuota attraverso una finestrella della parete laterale entra l'aria calda della notte del sud e sento l'acqua che batte contro il vecchio battello sono disteso qui fin da quando cacciatore Gracchus ancora vivo in patria inseguì un camoscio nella foresta nera e precipitai tutto avvenne per ordine io inseguivo precipitai mi dissanguai in una gola morì e quel battello mi doveva trasportare nell'aldilà mi ricordo ancora come lietamente mi stesi sul tavolaccio per la prima volta le montagne non mi hanno mai sentito cantare come allora quelle quattro pareti ancora in penombra ero vissuto volentieri e volentieri ero morto prima di salire a bordo felice gettai via quella robaccia il fucile la borsa il coltello da caccia che con orgoglio avevo sempre portato con me e indossai il sudario come una fanciulla indossa l'abito nuziale stavo disteso e aspettavo poi avvenne la disgrazia un destino crudele disse il sindaco alzando la mano in un gesto di difesa e lei non ha nessuna colpa nessuna disse il cacciatore io ero cacciatore e questa è forse una colpa ero impegnato come cacciatore nella foresta nera dove allora c'erano ancora lupi mi appostavo sparavo colpivo scuoiavo e questa è una colpa il mio lavoro era apprezzato mi chiamavano il grande cacciatore della foresta nera e questa è una colpa non sono chiamato a decidere disse il sindaco ma anche a me non sembra che ci sia colpa alcuna ma chi ha la colpa il capitano del battello disse il cacciatore nessuno leggerà ciò che qui scrivo nessuno verrà ad aiutarmi se venisse dato l'ordine di aiutarmi tutte le porte rimarrebbero chiuse chiuse tutte le finestre tutti rimarrebbero a letto le coperte tirate fin sopra la testa tutta la terra un albergo di notte ciò si spiega bene perché nessuno sa nulla di me e se sapesse di me non saprebbe dove mi trovo e se sapesse dove mi trovo non saprebbe trattenermi colà non saprebbe come aiutarmi il pensiero di volermi aiutare è una malattia e si deve curare a letto lo so e non scrivo per chiedere aiuto neppure quando in alcuni momenti sconvolto come sono per esempio ora ci penso con molta forza ma per allontanare da me tali pensieri è sufficiente guardarmi intorno e ricordarmi dove sono e dove posso bene affermarlo abito da secoli straordinario disse il sindaco straordinario e ora pensa di restare con noi arriva io non penso disse il cacciatore ridendo e per rimediare all'ironia poggiò una mano sul ginocchio del sindaco io sono qui non so altro non posso fare altro il mio battello è senza timone va con il vento che spira nelle regioni più basse della morte io sono il cacciatore gracco e la mia patria la foresta nera in Germania nessuno leggerà ciò che io scrivo qui nessuno verrà ad aiutarmi se fosse stabilito come compito di aiutarmi allora tutte le porte di tutte le case rimarrebbero chiuse tutte le finestre chiuse tutti sarebbero nei loro letti con le coperte gettate sulla testa tutta la terra sarebbe un dormitorio ciò è ben comprensibile perché nessuno sa di me e se qualcuno sapesse non saprebbe però dove abito e se sapesse dove abito non saprebbe però trattenermi là e se sapesse trattenermi là non saprebbe però come venirmi in aiuto il pensiero di volermi aiutare è una malattia e deve essere curata a letto questo io lo so e dunque non scrivo per procurarmi un aiuto sebbene in certi momenti in cui non mi controllo come per esempio proprio ora mi viene da pensarci con forza ma per cazzare simili pensieri basta che io mi guardi intorno e mi rammenti dove sono e dove abito posso ben dirlo da secoli mentre scrivo tutto questo sono straiato su una panca di legno indosso non è un piacere vedermi una camicia funebre sporca capelli e barba grigi e neri crescono insieme inestricabili e le mie gambe sono coperte da un telo da donna di seta ornato di fiori a frange alla mia testa si trova una candela da chiesa che mi fa luce sul muro davanti a me c'è un piccolo quadro evidentemente un boscimano che con una lancia prende la mira su di me e per quanto può si copre dietro uno scudo grandiosamente decorato sulle navi si trovano spesso quadri stupidi ma questo è uno dei più stupidi per il resto la mia gabbia di legno è completamente vuota attraverso un oblò della parete laterale arriva l'aria calda della notte meridionale e ascolto l'acqua che batte contro la vecchia barca qui io giaccio da allora quando mentre ero ancora il vivo cacciatore gracco precipitai inseguendo un camoscio nella patria foresta nera tutto andava secondo l'ordine delle cose io inseguivo precipitai mi dissanguai in una scarpata morì e questa barca doveva trasportarmi nell'aldilà ricordo ancora con quanta felicità mi sono sdraiato per la prima volta su questa panca i monti non avevano ancora mai udito da me un canto come quello che udivano queste quattro pareti allora ancora al crepuscolo volentieri ero vissuto e volentieri ero morto prima di salire a bordo lieto gettai via da me l'impiccio del fucile della borsa e della veste da caccia che sempre avevo portato con orgoglio ed entrai nella camicia funebre come una fanciulla nella veste nuziale dicevo qui e aspettavo allora avvenne come sarebbe cacciatore gracco tu viaggi da secoli in questa vecchia barca già da cinquecento anni e sempre in questa nave sempre in questa barca barca è il nome giusto non ti intendi di navi vero? no è solo da oggi che me ne occupo da quando so di te da quando sono salito sulla tua nave non devi scusarti anch'io vengo dall'interno non ero un marinaio né volevo diventarlo monti e foreste erano la mia felicità e ora il tuo anziano viaggiatore del mare il cacciatore gracco protettore dei marinai il cacciatore gracco implorato dal mozzo che si torce le mani sulla coffa angosciato nella notte di tempesta non ridere ridere io? no davvero con il cuore intumulto stavo davanti alla porta della tua cabina con il cuore intumulto sono entrato i tuoi modi amichevoli mi tranquillizzano un poco ma non dimenticherò mai di chi sono ospite certo hai ragione ad ogni modo io sono il cacciatore gracco perché non assaggio un po' di vino non conosco la marca ma è dolce e forte il capo mi tratta bene ora no ti prego sono troppo agitato forse più tardi se mi sopporterai ancora qui chi è il capo? il proprietario della barca? questi capi a dire il vero sono persone eccellenti io però non capisco non mi riferisco alla loro lingua anche se naturalmente spesso non capisco neppure quella ma questo è collaterale ho imparato abbastanza lingue nel corso dei secoli che potrei fare da interprete fra gli antenati e i contemporanei quello che non capisco dei capi è il loro modo di pensare forse tu puoi spiegarmelo non ho molta speranza come potrei spiegare qualcosa a te davanti a te sono un bambino che balbetta non fare così te lo dico una volta per tutte mi farai un piacere se ti comporterai in modo un po' più virile un po' più sicuro di te che me ne faccio di avere per ospite un'ombra piuttosto lo soffio via sul mare attraverso l'oblò ho bisogno di diverse spiegazioni tu che te ne vai in giro là fuori puoi darmele ma se ciondoli qui intorno al mio tavolo e ingannandoti dimentichi quel poco che sai allora puoi anche levarti subito di torno io non ho peli sulla lingua c'è qualcosa di giusto in quel che dici in effetti per certi versi io ti sono superiore cercherò di dominarmi fammi una domanda meglio molto meglio se esageri in questa direzione e ti immagini una qualche superiorità devi solo capirmi per bene io sono un uomo come te solo più impaziente di quel paio di secoli di cui sono più anziano allora volevamo parlare dei capi fai attenzione e bevi un po' di vino per aguzzarti il cervello senza paura forza ne abbiamo ancora una nave intera gracco è un vino eccellente viva il capo peccato che sia morto proprio oggi era un bravo uomo e se n'è andato in pace giudiziosi ragazzi ormai cresciuti stavano al suo letto di morte ai suoi piedi la moglie ha perso i sensi ma il suo ultimo pensiero lo ha dedicato a me era un bravo uomo di amburgo santo cielo di amburgo e tu qui al sud sai che è morto oggi come non dovrai sapere quando muore il mio capo sei proprio un sempliciotto vuoi offendermi no niente affatto non lo faccio apposta tu però devi stupirti di meno e bere di più con i capi la cosa sta nei seguenti termini in origine la barca non apparteneva a nessuno gracco una preghiera prima di tutto dimmi in modo succinto ma coerente come stanno le cose riguardo a te ti confesso la verità non ne so niente per te naturalmente si tratta di cose evidenti e come fai di solito ne presupponi la conoscenza nel mondo intero ora però in una breve vita umana perché la vita è breve gracco cerca di capirlo in questa breve vita dunque si è già fin troppo impegnati a innalzare se stessi e la propria famiglia e per quanto il cacciatore gracco sia interessante e questa è convinzione non piageria non si ha tempo di pensare a lui informarsi di lui e neppure per preoccuparsi di lui forse sul letto di morte come il tuo hamburghese questo non lo so forse in quel momento un uomo dirigente ha per la prima volta il tempo di distendersi e allora il verde cacciatore gracco sfiora finalmente i suoi pensieri oziosi ma altrimenti come ho detto io non sapevo niente di te sono qui nel porto a motivo dei miei affari ho visto la barca la passarella era lì davanti sono salito ma ora vorrei sapere qualcosa che ti riguardi che mi riguardi storie vecchie vecchie tutti i libri ne sono pieni in tutte le scuole gli insegnanti le disegnano alla lavagna la madre ne sogna mentre il bambino si nutre al seno e tu stai qui seduto e mi chiedi qualcosa che mi riguardi devi aver proprio bruciato la tua gioventù può essere succede a tutte le gioventù però credo che ti sarebbe assai utile se tu per una volta ti guardassi un po' intorno nel mondo per quanto possa sembrarti comico e io stesso in questo luogo quasi me ne stupisco tu non sei l'oggetto delle chiacchiere cittadine di quante cose si possa parlare tu non sei fra quelle il mondo va per il suo corso e tu per il tuo viaggio ma mai finora mi sono accorto che vi siate incrociati queste caro mio sono osservazioni tue altri ne avranno fatte di diverse qui ci sono solo due possibilità o tu stai tacendo quel che sai di me per qualche tua definita intenzione e allora ti dico francamente sei su una strada sbagliata oppure davvero credi di non ricordarti di me perché confondi la mia storia con un'altra e allora ti dico io sono no non posso tutti lo sanno e proprio io dovrei raccontartelo è passato tanto tempo chiedilo agli storici nella loro stanzetta guardano a bocca aperta ciò che è accaduto da tanto tempo e lo descrivono senza sosta vai da loro e poi ritorna è passato tanto tempo come posso conservarlo in questo cervello così stracolmo aspetta aspetta gracco voglio aiutarti ti farò delle domande da dove vieni? dalla foresta nera come tutti sanno naturalmente dalla foresta nera e così hai cacciato laggiù nel quarto secolo senti conosci la foresta nera? no ma non conosci proprio niente il bambino del timoniere sa più di te ma davvero molto di più ma chi ti ha fatto entrare? è proprio un destino la tua modestia iniziale era davvero fin troppo ben fondata sai un nulla che io sto riempiendo di vino ora viene fuori che non conosci neppure la foresta nera io ho cacciato laggiù fin dall'età di 25 anni se il camoscio non mi avesse attirato ecco ora lo sai avrei avuto una lunga e bella vita di cacciatore ma il camoscio mi ha attirato sono precipitato e mi sono sfracellato sui sassi non farmi più domande qui io sto morto 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 non so perché son qui fui caricato sulla barca funebre come si conviene ad un povero morto furono fatte con me quelle tre o quattro manovre come con tutti perché fare eccezioni con il cacciatore gracco tutto era in ordine io giacevo disteso nella barca nel piccolo porto dove di solito si fermano oltre alle navi da pesca solo due vaporetti per trasporto passeggeri che coprono i collegamenti del lago c'era oggi una barca straniera una vecchia barca pesante relativamente bassa e molto panciuta sporca e come inzaccherata di acqua fangosa sembrava che ancora ne gocciolasse la fiancata giallastra gli alberi incomprensibilmente alti l'albero maestro spezzato nel terzo più alto le vele spiegazzate grezze color marrone giallastro tese di traverso fra gli alberi rammendate inadeguate a qualsiasi soffio di vento rimasi a guardare a lungo stupito aspettai che qualcuno si mostrasse sul ponte non venne nessuno vicino a me sul muretto del molo si sedette un operaio di chi è la nave chiesi la vedo oggi per la prima volta viene ogni due o tre anni disse l'uomo e appartiene al cacciatore gracco grazie a tutti Grazie a tutti.